Il Casarano va al voto per stabilire quali classi d'età degli under debbano essere intiegate nel prossimo campionato organizzato dalla Lega Nazionale Direttanti che dovrebbe prendere avvio a fine settembre. La dirigenza rossa-azzurra, come molte altre società del girone H, ma non solo, ha dato la priorità ai giovani scegliendo l'ipotesi che ne allarga la platea, ovvero a tutti i dati dal 1999 al 2002. Al netto del quorum del 75% a livello nazionale del referendum, così come comandato dalla federazione, questo dovrebbe essere l'orientamento a livello generale. In questo modo verrebbe rivalutata in seno al club rossa-azzurro la posizione dell'esterno Pasquale Tedone, che potrebbe anche rimanere a Casarano. Per quanto riguarda il mercato, tutto è fermo, ma lo sarà ancora per poco, vista l'imminente sua apertura del 1 luglio, con conclusione prevista al 30 ottobre. Mincica, fresco di compleanno, è l'uomo messo nel mirino da molte società, come il Taranto, ma al momento il calciatore è rossa-azzurro a tutti gli effetti, almeno fino al 30 giugno.